salve a tutti fratelli e sorelle benvenuti nel nuovo appuntamento di visioni segni e miracoli di oggi 18 di maggio 2019 sia lodato gesù cristo e aveo maria ovviamente come avete letto dalla ovviamente locandina che qui vedete e dalla miniatura ovviamente e parliamo oggi ovviamente brevemente perché una mini trasmissione si può dire perché la bellezza la gloria si dà solamente al nostro signore gesù cristo questo miracolo ecolistico che è avvenuto in germania abbiamo ripreso questa notizia da dal gruppo anzi dalla pagina di facebook di messaggi della madonna nel mondo e abbiamo visto questo video che è veramente veramente bello poi lasciamo il link in descrizione potete poi vederlo tranquillamente e anche da soli e meditando anche su questa cosa ecco come si vede da queste immagini di questo video si vede praticamente che in adorazione di questa santa questa santa eucaristia che si vede c'è 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 questa cosa quindi si è verificato in germania durante le ore di adorazione di nostro signore gesù cristo re del re e re di tutto l'universo un grande miracolo ecolistico una goccia di sangue è apparsa al centro dell'ostia contenente il corpo e il sangue di gesù questo sta a significare cari fratelli e sorelle che lì c'è gesù lì c'è veramente il corpo e il sangue di cristo e come si vede dall'immagine io l'ho messa nella locandina ovviamente scusate nella miniatura ma ripetendo il video ve lo vedete tranquillamente quanto volete voglio dire vedete che c'è questa piccola macchia di sangue che si vede al centro dell'ostia fondamentalmente e questa dà la certezza ma sapete che miracoli ecolistici sono stati in tutte le parti del mondo ovviamente noi prendiamo questi che stanno accadendo in questi giorni ovviamente in questi ultimi tempi chiamiamolo così per fare utilizzando la parola degli ultimi tempi o fine dei tempi chiamiamola chiamiamola così però andiamo a vedere proprio che questa cosa fa suscettare all'interno del nostro cuore che veramente lì fratelli e sorelle c'è veramente il corpo e il sangue di cristo chi nega che lì non c'è il corpo e il sangue di cristo fratelli e sorelle chi lo nega e molti youtubers ci sono qui in internet che lo dicono questi stanno non dalla parte di gesù ma stanno dalla parte dell'anticristo fratelli e sorelle qui non si può scegliere due staffe in tutte e due le cose no gesù c'è è viva e vero nella santa eucaristia e chi dice io ve lo ripeto sempre chi dice che lì non c'è il corpo e il sangue di cristo non viene da dio non viene da cristo ma viene dall'anticristo viene da satana fondamentalmente quindi per questo che bisogna pregare che costoro dicono che dicono certe cose bisogna pregare per loro che si convertano come ci dobbiamo convertire tutti noi fratelli e sorelle perché la conversione è un cammino lungo ma questo miracolo è avvenuto realmente da come si vedono le immagini poi se dio vorrà faremo delle puntate su altri miracoli ecolistici anche del passato ma vedete che comunque sia qualsiasi miracolo ecolistico che c'è stato anche nel passato compreso questi dei giorni nostri il sangue come si vede dalla macchiolina lì in mezzo si vede ovviamente è incredibile fratelli e sorelle per dire la potenza di nostro signore gesù cristo ve lo dico sempre a dio nulla è impossibile fratelli e sorelle dove c'è la santa preghiera e veramente c'è la fede succedono cose che vanno come possiamo dire cose straordinarie è ovvio che dio ci vuole nell'ordinarietà della vita ma queste capitano diciamo esistono perché dio li manda queste cose perché è una è una grazia che avvengono anche questo per far vedere che dio esiste che dio c'è che dio è nella santa particola e tanta gente invece pensa che siano tutte stupidaggini quindi invece diffondete se dio vuole questo video non solo questo parole di questo disgraziato questo peccatore che vi parla ma anche del video stesso proprio che si vede fratelli e sorelle per diffondere e far vedere che veramente lì gesù è vivo e vero questo è la cosa importante che gesù è vivo e vero ed è sempre insieme a noi fino a quando lo rivedremo ovviamente nella gloria della seconda venuta del signore nella parousia che quello è tutt'altro altro discorso ovviamente ma gesù sta con noi nella santa eucaristia ecco perché è importante andare all'adorazione fratelli e sorelle andate se potete alla santa adorazione andate all'adorazione fratelli e sorelle perché è veramente vivo e vero il signore gesù e gesù è risorto fratelli e sorelle io vi auguro una buona giornata sia lodato gesù cristo sempre sia lodato ovviamente sia fatta la volontà di nostro signore gesù cristo dio vi benedica avevo maria se potete come vi dicevo diffondete questi video anche la parola di dio ovviamente sia fatta ovviamente la volontà del signore noi sapremo delle live ve lo faremo ovviamente se dio vuole sapere in anticipo e pregate per noi come noi preghiamo per voi e preghiamo per la santa chiesa che la nostra santa chiesa cattolica che ne ha tanto bisogno sia lodato gesù cristo ave maria dio vi benedica e alla prossima puntata